No, la vedo impossibile, la vedo impossibile perché nessuno più... cioè guardate le guerre si fanno ancora con gli scarponi, non con i droni o con gli aeroplani e fortunatamente io dico ma comunque non c'è nessuno disposto a mandare decine o centinaia di migliaia di soldati in Libia a cominciare dagli Stati Uniti, la Repubblica Americana non vuole vedere ritornare cadaveri a casa i paesi europei sono evidentemente riluttanti, l'obzione militare poi secondo me non risolverebbe nulla.